Avrebbe falsificato un centinaio di modelli F24, così da far risultare i versamenti delle imposte come effettuati, facendosi consegnare a fronte di tali attestazioni di pagamento una somma complessiva pari a oltre 1 milione 100 mila euro, truffando gli ignari clienti. Per questo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza un ragioniere commercialista e consulente del lavoro, Mauro Mongelli, di 54 anni. All'uomo, titolare di uno studio professionale di Taranto, sono stati contestati numerosi reati, tra i quali la truffa aggravata. I militari del nucleo di polizia tributaria hanno arrestato il commercialista che è stato trasferito in carcere. L'uomo avrebbe anche evaso le imposte dirette per oltre 1 milione 200 mila euro e IVA per oltre 400 mila euro. I finanzieri hanno inseguito inoltre un sequestro preventivo per equivalente, concernente beni e disponibilità finanziarie dell'indagato, per 900 mila euro complessivi. In particolare sono stati sequestrati una barca a vela, un appartamento, tre motocicli e depositi bancari.